Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quando ho aperto questo canale YouTube avevo intenzione anche di parlarvi dei vari set di stickers, delle varie collezioni che escono costantemente sul sito di Holly Pixels che come sapete per me è il miglior sito per quanto riguarda la creatività digitale e più che altro il digital planning. Quindi oggi volevo semplicemente in un video proprio molto semplice, molto chiacchiericcio così e molto rilassante spero andare a vedere insieme a voi un po' di stickers a tema autunno e Halloween che secondo me sono molto belli che io prenderei e che magari ho anche preso dal sito di Holly Pixels. Intanto vi voglio anche mostrare come andare a cercare questa tipologia di stickers sul sito di Holly Pixels. Si può semplicemente fare una ricerca all'interno del sito oppure se voi andate su shop e digital planner stickers vedete che ci sono tutte queste categorie tra cui potete scegliere per cercare degli sticker con un particolare tema. Nel nostro caso andremo a vedere magari Thanksgiving, Seasonal e Halloween perché Autumn, Fall non ci sono. Quindi partiamo con il Thanksgiving, anche se forse era meglio partire con Seasonal, però vedete che già qui ci sono un sacco di stickers autunnali. Partiamo dal presupposto che i miei designer preferiti nel sito sono Holly stessa, The Rosie Rabbit e Be Creative principalmente, però ci sono delle ragazze che creano degli stickers bellissimi anche appunto al di fuori di questi designer. Allora, innanzitutto ci sono gli sticker di Holly e approfitto di questa occasione per dirvi che comunque, come vi ho già detto nei vari video sul digital planning, quando acquistate un set di sticker lo potete usare per tutto il tempo che volete perché essendo digitale non è che li finite e comunque non è che sono datati. Quindi se per esempio li avete acquistati a novembre 2018 potete ancora utilizzarli oppure se non li avete acquistati a novembre 2018 ma vi piacciono potete acquistarli anche quest'anno. Questi per me sono bellissimi quindi io mi sa che ce li ho perché appunto compravo tutti i set di sticker di Holly prima di diventare appunto ambassador e quindi questi quasi sicuramente ce li ho e se non ce li avessi riprenderei perché sono veramente stupendi. Poi come vi dicevo abbiamo i vari set di The Rosie Rabbit, nello specifico Caffè in the Fall e Pumpkin Patch sono a tema autunnale e sono bellissimi. Quindi questo è Caffè in the Fall, mi piace tantissimo il suo stile perché è molto minimal però mi dà proprio l'idea di autunno, di boh non lo so il suo stile in generale comunque mi piace perché è molto minimal ma mi piace un sacco e appunto sempre di The Rosie Rabbit abbiamo anche Pumpkin Patch quindi questi sono gli sticker vedete che ci sono quasi sempre anche tutti i mesi quindi potete usarli, cioè li potete acquistare adesso ma potete usarli per i vari mesi ecco non è che li dovete per forza utilizzare a novembre o a ottobre anche se comunque è una... il tema è autunnale però insomma potete usarli quando volete poi non apro questo, vabbè lo apro giusto per farvelo vedere perché dicevo che è per l'Obonici quindi vi consiglio di prenderlo se avete un Obonici digitale sempre venduto da Holly però in realtà anche no perché comunque a parte magari una o due sticker come possono essere per esempio questi dei giorni il resto li potete tranquillamente utilizzare come vedete anche nel Pixel Planner o nel Bullet Journal digitale quindi assolutamente vedete ci sono magari le cover per l'Obonici oppure degli sticker in particolare a dimensione Obonici però ovviamente li potete utilizzare in qualsiasi agenda digitale voi abbiate poi anche Nicole Jones Sturk mi piace molto perché vedete che più o meno lo stile è quello quindi anche questi mi piacciono moltissimo questi si chiamano Thankful, Grateful, Blessed, molto belli e questi sono quelli di Holly dell'anno scorso, bellissimi quindi vedete questi qui qui tra l'altro c'erano anche gli embellishment in 3D quindi come se fossero degli adesivi, quelli puffi, dei fiori quindi delle decorazioni in 3D e le card tutto insieme quindi questo ve lo straconsiglio magari costa un pochino di più esatto, costa 9 dollari però ne vale la pena e lei, infatti c'è scritto New credo che sia una ragazza nuova ma sono veramente bellissimi guardate che meraviglia questi questi non li avevo ancora visti infatti mi sa che li prenderò perché sono veramente molto molto belli e appunto sono di Karen Avila tra l'altro che meravigliosa palette di colori sull'arancione il rosa caldo questo rosa anche un po' perla bellissimi rosa antico non mi veniva e si chiamano Floral Fall Digital Stickers ok basta quindi per il Thanksgiving sono finiti poi andiamo a vedere i Seasonal e in questo caso facciamo una cosa mettiamo qua su invece che Sort by Popularity Sort by Latest quindi probabilmente verranno messi quelli, gli ultimi ecco infatti gli ultimi vengono messi prima e quindi sono quelli a tema un pochino più autunnale questo mi sa che ve l'ho mostrato prima comunque c'è anche proprio il set di sticker non solo per Leobonici sempre di Be Creative e sempre suo se lo riesco a trovare però mi sa che è dell'anno scorso no niente perché è di Halloween quindi lo troveremo sicuramente nella nella categoria Halloween qui adesso andiamo alla primavera perché sto andando indietro quindi questi sono quelli primaverili fino ad arrivare questi natalizi ecco all'anno scorso quindi qui c'era questo mega pack bellissimo che tra l'altro non costa neanche tanto ed era composto da sticker di vari di vari designer perché appunto se erano messi insieme avevano fatto questa questa collezione di sticker che è bellissima perché racchiude tanti stili diversi e si chiama Digital Planner Stickers Autumn Mega Pack così magari se la volete anche andare a cercare non metterò i link a tutto perché altrimenti ci stiamo tre anni poi ecco questi sono gli stickers che vi dicevo prima Pumpkin Spice di Be Creative favolosi anche questo molto carino di Love Danny anche lei mi piace molto e guardate che meraviglia questi questi si chiamano Happy Fall You All di Love Danny appunto molto molto carini anche magari una palette di colore un po' diversa dal solito ma molto appunto molto carini poi abbiamo anche ecco Mindy Terasawa è un'altra designer che mi piace tantissimo e nello specifico Sweater Weather e Fall Camping sono meravigliosi guardate che meraviglia questo è Sweater Weather stupendi meravigliosi poi il viola con l'arancione secondo me stanno benissimo mentre questo è Fall Camping sempre di Mindy Terasawa come vi dicevo anche i suoi mi piacciono veramente tantissimo no scusate questo è di Magnolia Minted ecco comunque mi piace molto anche quello e poi ce n'era un altro di Mindy che però qui non appare quindi niente infine andiamo a vedere Halloween quell'altro di Mindy dopo lo andiamo a cercare mi sembra che si chiami Camping with the Bears dopo lo andiamo a cercare allora qui c'è il mio preferito in assoluto appunto di Be Creative Black Magic è stupendo questo io l'ho usato l'anno scorso per il Bullet Journal quest'anno per il Bullet Journal perché è una cosa meravigliosa spettacolare ok non mi ha preso ok poi anche questo di Mindy è carino si chiama Wicked Halloween Wicked Halloween scusate questa magari delle illustrazioni un pochino più infantili però alcune sono veramente belle tipo questa cioè non mi piacciono tanto gli omini e le zucche così fra virgolette infantili però il resto mi piace un sacco tipo anche questa qua è bellissima i giorni della settimana sono stupendi e anche qui sempre questo accostamento di viola e arancione tipico di Halloween poi vediamo cosa c'è di nuovo c'è qualcosa di Time Out Scraps che mi piace e vabbè la mia adorata Be Creative con Spell on You meraviglioso anche se continuo a preferire Black Magic però meraviglioso anche questo questo si chiama Spell on You poi questo è bellissimo di Beautiful scusate no di Nicole Jones Sturk si chiama Beautiful ed è meraviglioso guardate che colori vivaci proprio belli sgargianti spettacolare questo poi se tipo avete un planner con le pagine nere è meraviglioso magari potete anche crearvi una pagina proprio scura per farli risaltare ancora di più poi vediamo se c'è qualcos'altro che mi piace particolarmente no questo è carino non l'avevo visto sorta spooky di mint magnet sì carino non mi dice niente di di che comunque è carino e vi avevo promesso che avremmo cercato camping with the beers di mindy eccolo non è autunnalissimo però diciamo che è autunnale questo è scrapbook no volevo farvi vedere gli stickers tra l'altro anche i kit di scrapbooking potete abbinarli agli stickers non è proprio super autunnale perché ha dei colori magari un pochino più tenui però dato che ci sono magari il fuoco dov'è che l'ho visto ho visto prima comunque appunto magari c'è eccolo qua il fuoco magari ci sono le stelle con la luna magari forse è un pochino più estivo però io lo metterei anche tra quelli autunnali quindi questi erano i miei set di stickers preferiti per halloween e l'autunno di sul sito holly pixels vediamo se qua c'è qualcosa ci appare qualcosa di nuovo che ci siamo persi per la strada no più o meno sono quelli quelli di cui abbiamo parlato prima quelli poi i miei preferiti fatemi sapere qui sotto nei commenti quale magari è il vostro set di sticker preferiti sia tra questi che vi ho mostrato sia se magari ce n'è uno in particolare che non vi ho mostrato e fatemi sapere se a voi piace decorare la gender bullet journal con degli sticker a tema noi ci vediamo lunedì con il prossimo video se questo vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su e iscrivetevi al canale per non iscrivetevi